buonasera di nuovo e adesso che succede adesso succede che preparo una ricettina vegana faremo del riso venere con le verdure un bel po di verdure allora abbiamo cotto il riso venere in quarto d'ora 20 minuti circa dei peperoni gialli e rossi li abbiamo scottati nel microonde per qualche 2 3 minuti per tre minuti la stessa cosa abbiamo fatto con una zucchina i piselli li abbiamo lessati abbiamo grattugiato una carota con una ciliene con una mandolina e poi abbiamo qui dei pomodorini prezzemolo e basilico menta abbiamo quindi abbiamo la nostra salsa di avocado da questo come si preparano abbiamo questo mezzo avvocato 2 3 pomodorini sale un pochino di limone e un pochino di olio extravergine cominciamo con il condire le nostre verdure carota i nostri pisellini i nostri peperoni e un pochino di olio extravergine e un pochino di sale e qui siamo a posto stiamo pronti ecco qua aggiungeremo un pochino di pezzemolo che ci sta bene eccolo qua ecco qua aggiungeremo un pochino di peperoni e qui diamo un pochino di peperoni e qui diamo un po' di carattere al nostro piatto con un pochino di peperoni e qui diamo un pochino di peperoni e poi anche pomodoro guardate il po' i nostri pomodori gialli, rossi, verdi vanno bene tutti ecco qua vensi mettiamo anche i nostri pomodori aggiungiamo un pochino di olio e un altro pochino di sale ecco qua mettiamo anche un po' il basilico non può mancare il basilico giustamente basilico, prezzemolo non ci facciamo mancare nulla ecco qua perfetto le nostre verdure sono belle pronte ok guardate un po' tutto bel colorato perfetto qui adesso aggiungiamo il nostro riso rischiamo rischiamo scusate solo un attimo bene questo è il nostro polpo che sta andando perfetto benissimo eccoci qua bene 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 ovviamente essendo il piatto vegano ok Edoardo bene ok eccoci qua ci siamo bene bene andiamo a mettere la nostra salsina di avocado che abbiamo detto che è il piatto vegano quindi niente niente ma di un esempio ma il nostro avocado è buonissimo ecco fatto mescoliamo tutto perfetto bene bene e la nostra insalata di riso venere con le verdure è pronta grazie pote ciao Gio ecco qua vedete pronta bella fresca e salutare e colorata soprattutto adesso io farò un impiattamento ma è chiaro che potete servirla già direttamente così però mi piace fare queste cosine vi diverto quindi se volete fare magari avete una cena volete eh potete divertirvi in questo modo vedete un coppapasta in questo modo figgiate con un cucchiaio ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua poi se vogliamo dare poi un tocco in più mettiamo mettiamo i nostri pomodorini mettiamo i nostri pomodorini regoliamo il nostro piatto come volete come vi piace qua rossi vedete ci vuole poco un po' di fantasia un po' di fantasia e quindi la nostra menta così menta basilico quello che avete quello che vi piace col toilines ecco qua con il vino un po' di fantasia e siamo pronti come avete visto basta poco e abbiamo preparato un bel fiattino grazie grazie a tutti ed è gentile ok, il piatto è pronto lo diamo solo voilà un filo di oli stravergine a completare il nostro piatto quello sempre ed ecco a voi il piatto grazie della vostra attenzione un bacio e un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta e a un pochino spadelleremo il film ciao ragazzi buona giornata